Venire oggi qui a Crema invece a parlare della controffensiva dell'umanità nei confronti del virus è ovviamente un momento per me importante e molto significativo. A breve la gestione fallimentare della programmazione vaccinale della società Aria passerà a poste. A partire dai primi di aprile questa regione farà vedere che è una regione che davvero può dare l'esempio a tutti. Io ho chiesto scusa quando ho visto gli anziani, ovvero 80, in piedi, in fila. E quella cosa mi ha mandato fuori dai gangheri. Oggi sono qui a dire che stiamo facendo il possibile e spero di non dovermi più scusare con nessuno per quello che riguarda le prossime settimane e i prossimi anni. Sono le parole di Guido Bertolaso, consulente della regione Lombardia, dopo la visita al nuovo hub vaccinale cremasco ricavato nell'ex tribunale, struttura chiusa dal 2013 e il cui mancato utilizzo ha suscitato più di una polemica e che, come ha detto il primo cittadino Stefania Bonaldi, può rientrare in una nuova programmazione. Di proprietà comunale, ma noi siamo disponibili a cederlo alla regione in tutte le forme che vuole per metterlo a frutto, a servizio. Mi auguro che questa possa essere anche una prova generale per quel tipo di servizio guardando al futuro. Un anno fa eravamo in una fase difensiva rispetto al virus, oggi passiamo alla fase invece offensiva. Presenti i vertici sanitari della SST di Crema, che si sta occupando dei contatti con i pazienti e che ha attivato un call center temporaneo con operatori volontari. Noi eravamo molto avanti con le vaccinazioni e avevamo le agende da riempire, per cui ci siamo fatti dare. In tre giorni abbiamo programmato 1.500. Il centro di rivolta, che era l'unico centro piccolo che noi avevamo con una linea vaccinale, abbiamo ritenuto di chiuderlo. Garantiamo a rivolta le seconde dosi per chi ha già fatto a rivolta la prima dose. Dopo la giornata di apertura di ieri, in cui sono state circa 500 le vaccinazioni somministrate agli over 80 con Pfizer, oltre a quelle con AstraZeneca per gli aventi diritto, oggi sono proseguita a pieno ritmo. Ci hanno chiamato loro e ci hanno dato l'appuntamento per oggi. Io avevo paura, ne ho detto, non è obbligo, non faccio. Invece, vai vai mio marito e miei figli, vai vai, sono venuta. Siamo di Zano, che è a pochi chilometri da qua. Tutto organizzato, passo per passo, ci guidano fino alla fine.